Una notte bianca d'inverno a Pescara. Si sceglie un tempio della cultura, dell'arte, della storia e della bellezza per vivere il fascino del Natale. Dal tramonto all'Aurum è la proposta della giunta comunale in un cartellone vario pieno di eventi che spaziano dalla musica ai reading letterari a protagonisti del calibro di Enrico Vaime e Gio di Tonno. Beh, innanzitutto sono proprio nei momenti di crisi, di dissesto, vanno tentate vie nuove e dobbiamo valorizzare al massimo, usare al massimo le cose che noi abbiamo. Penso dell'Aurum ha patito un sottoutilizzo molto lungo, era soltanto uno sfondo per matrimoni per troppo tempo. Vogliamo riaprire l'Aurum alla città e le possibilità della città in questo 20 dicembre in cui dalle 18 fino all'alba avremo ben 38 appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le generazioni. Inizio fissato per le ore 18, quando si apriranno ufficialmente spettacoli e attività. Si punta a dare una nuova vita a un edificio divenuto troppo ingessato, spiega Di Giacobo. La vita culturale può essere resa più partecipata e questo appuntamento sarà il banco di prova. Iniziamo con appuntamenti per bambini per proseguire con ospiti nazionali molto importanti per avere concerti di musica classica fino all'alba, così come musica rock, elettronica, performance teatrali, presentazione di libri ed esposizioni, oltre che una rassegna di videoarte molto importanti e anche cose molto popolari. Ci sarà anche un corso per come fare l'Aurum a casa propria. Insomma, una vera e propria offerta cardoscopica per una struttura straordinaria. Grazie.